ciao da lucia oggi come promesso mi faccio la recensione di questi attrezzini queste rotelline per fare i pompom e qua io ne ho già fatto uno pompon sono si possono fare anche manualmente senza necessariamente avere questi attrezzi però se ci si può diciamo rendere la vita un po più facile perché no quindi per l'appunto volevo farvi dividere mi sono arrivati oggi io li ho provati devo dire che sono fanno quello che devono allora io li ho presi su amazon e sono questi qua quelli con questa scritta vi trovate proprio tra io ho messo proprio la scritta per fare pompom pompon e mi è uscito questo questo diciamo questo una lista di attrezzi che potevo prendere io per provare ho preso proprio quel uno tra uno dei set tra quelli che costava meno ho pagato sui 6 7 euro la confezione da quattro devo dire la verità questo per esempio è molto molto sarà perché anche piccolo è molto molto sembra quasi un po fragilino però essendo che non dobbiamo fare una quantità industriale di pompon po di pompon può anche andar bene io ho provato questo e quindi ne ho uno piccolissimo in giro ma mi sa che non ce l'ho qua in questo momento e questo qui l'ho fatto con questo più grande devo dire che questo sembra già più solido sarà anche per la dimensione gli altri sembrano un po più soli questo piccolino è un po po fragilino ed è composto in questo modo ve lo faccio vedere su quello più grande allora vedete si aprono questi queste passi apre in questo modo e adesso poi vi faccio vedere proprio come funziona possiamo anche aprirlo così questo è proprio si apre in questo modo per sfilare poi alla fine il nostro pompon fatto vedete all'inizio non avevo capito come funzionava perché ci sono delle spiegazioni dietro ma i furboni hanno attaccato qua il codice a barre gigante proprio sul pezzo che interessava a me per capire come funzionava e quindi mi sono dovuta ingegnare inizialmente ho sbagliato e poi ho capito come funzionava e mi sono sono riuscita a farmi il mio pompo adesso vi faccio vedere come funziona allora ho preso un gomitoletto di filato e cosa faccio vado aprire in questo senso tutti e due le mezze lune tutte e due unite per comodità me le metto da questo lato fermo io lo fino in filo in mezzo il primo filo così rimane magari un po più fermo che stringendo rimane fermo lo tiro un pochino e inizio ad avvolgere il filo attorno a questa mezza luna in questo modo così potete anche girarlo se vi trovate più comodi magari il gomitolo lo metto dal lato dove non mi dà fastidio inizia ad avvolgere proprio vedete velocissima la la cosa diciamo che il trucchetto è quello di avvolgere più filo possibile perché più lo facciamo pieno più viene bello e quindi andiamo avanti a girare 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 fino a quando non abbiamo riempito stando attenti comunque a non passare questi questi vedete ma ci sono come dei blocchi siamo comunque attenti andiamoci a filo ma senza oltrepassarli e quindi andiamo avanti a arrotolare il nostro filato quindi di qua adesso ce ne è un po andiamo di qui vedete magari ecco arrivati da questo lato magari lo giriamo dove ci lo troviamo più comodo così possiamo girarci le mano tanto una volta bloccato il filo non esce più e andiamo avanti a girare in questo modo così io me lo rigiro un'altra volta e vado avanti insomma deve essere bello pieno anche di più e quindi vado avanti un pezzettino da sola quando l'abbiamo fatto bello pienotto vedete che è bello pienotto pienotto lo chiudiamo e rimane incastrato e tagliamo il nostro filo tanto rimane bloccato lì non si scioglie perché essendo bello pienotto rimane bloccato apriamo l'altra metà e facciamo la stessa medesima cosa quindi andiamo ad attorcigliare esattamente nello stesso modo se vogliamo possiamo anche fare un lato di un colore è un lato di un altro io in questo momento qui solo il rosa ma potrei tranquillamente mettere un altro colore per rendere il pon pon un po più colorato variopinto comunque adesso vado ad avvolgere anche questo lato nello stesso modo ecco qua quindi ho avvolto anche da questo lato vado a chiuderlo e vado a tagliare anche da questo lato il mio bel filo mi taglio già un pezzo di filo che mi servirà per chiudere ecco qua e ora cosa facciamo in queste fessure tra i due le due mezze lune dobbiamo andare a tagliare e spero per voi che abbiate una buona forbice perché io quella buona non so dove l'ho messa e il taglia figli risulta un po scomodo perché allora aspettate che prendo una forbice un attimo più in grado eccomi qua voi potrà sembrare strano ma le forbicine da unghie da bagno sono sempre le migliori per fare questo lavoro perché le altre sono troppo stesse fanno fatica ad entrare comunque questa è una una procedura che richiede un po di pazienza vedete andiamo a tagliare per bene tutto il nostro filato tagliandolo bene in questo modo mi raccomando non aprite lo ancora quindi giriamo è più comodo entrare dal lato dove c'è l'apertura vedete c'è la fessurina nel mezzo noi entriamo e siamo sicuri che tagliamo al centro del nostro filato ecco qui comunque questo richiede un po di pazienza è una forbice molto bene molto bene affilata io ne sono sprovvista attualmente devo insomma munirmi se avessi quella da sarta sarei a cavallo però c'era che abbiamo lo stesso abbiamo tagliato il nostro filato prima di aprire qualsiasi cosa qua c'è un filo che è rimasto dentro prima di aprire qualsiasi cosa lo appoggiamo e ancora non si muove nulla prendiamo un filo che abbiamo tagliato in precedenza e lo infiliamo vedete tra i due cerchi e qua mi accorgo che vedete se non avete tagliato bene non entra quindi cosa facciamo tiriamo bene in questo modo mi raccomando bene perché sennò si sgancia il pompon ecco lo avvolgiamo bene io devo dire il vero lo apro un pochino ma poco 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 per far entrare bene il filo e poterlo annodare bene quindi cosa faccio un nodino ne faccio un altro e inizio l'apertura del tutto quindi prima apro un lembo e si sfila qualcuno si sfida e se non è infilato bene ma non importa tanto poi ecco qua poi apro bene insomma faccio in modo da aprire tutti i lembi ecco qua tutti i miei mezzi le mie mezzi lune vedete le apro tutte da un lato e dall'altro vediamo se l'ho trovata allora facciamo così questa posso toglierla vedete si apri a metà e questo lo posso togliere adesso apro l'altra metà quindi questa perfetto e l'altra che è questa ecco e quindi sfilo il nostro pompon adesso questo è il filo che ho usato per legarlo lo scuoto un attimino e vedete è bellissimo e poi vado a tagliare quelli che sono i filettini in eccesso perché qualcuno più lungo magari c'è ma come vedete in linea di massima sono tutti lunghi uguali poi comunque vedi sistemati un po a mano vedete qua c'è un ciuffetto che leggermente più lungo poi noi andiamo a insomma sistemarlo così ma in linea di massima sono già tutti della stessa lunghezza poi se ce n'è qualcuno che spara fuori in un attimo lo andiamo a riprendere in questo modo vedete comunque vedete è fantastico il nostro pompon bello pieno bello questo qua ovviamente questo filo lo teniamo sia per chiuderlo che per agganciarlo al nostro lavoro quello che se è un cappello se io avevo tenuto qua un cappellino di riferimento per farvi vedere questo grande perché vedete questo qua è proprio questo grande questo allora no non era questo grande ma era questo medio guardate la differenza e poi ci sono i due piccolini dopodiché noi andiamo a richiudere il tutto in questo modo vedete in questo modo e possiamo riporre vedete c'è la il forellino al centro lo chiudiamo e abbiamo richiuso tutto il nostro aggeggino quindi la nostra sferetta per fare i pom 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 vedete com'è bella io adesso qua ho fatto un macello ma vedete viene veramente un pom pom molto carino molto pieno poi sbattacchiandolo un po si si stima perché si sa quando si schiacciano sono però è talmente pieno e bello e rotondo che devo dire non si schiaccia più di tanto e questo è già un guardate la mia mano è già importante come un po ne basterebbe anche solo quello medio però guardate questo come grande è veramente bello e comunque facile da fare perché dovete soltanto ecco qua c'è un filo che non mi piace soltanto veramente avvolgere queste mezze lune e procedere nell'aprire e sfilare il tutto tagliare ecco mi raccomando non un taglia fili perché non ce la fate e non una forbicina di quelle un po spesse io uso questa vedete proprio sottile sottile per unghie e che sono sempre io ce l'ho con le punte arrotondate perché proprio quella classica che per unghie c'è quella da sarta che è un po un po più bellina fatta meglio comunque io volevo proprio spiegarvi il procedimento e spiegarvi appunto dove li ho comprati come sono ripeto sono un po leggerini ma io ovviamente ho preso quelli che costavano meno di tutti perché volevo provarli di conseguenza non mi potevo aspettare che fossero chissà che cosa ma per 6 7 euro devo dire che vanno più che bene nel senso che ripeto solo questo piccolo è leggermente fragilino questi qua già sono un po più sostenuti quindi comunque e poi con po non li facciamo proprio tutti tutti i giorni quindi non abbiamo bisogno di andare a spendere chissà quale cifra per per poterli fare questo mi sembra già un 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 attrezzo e comunque per 6 euro 4 direi che è già buona come prezzo benissimo io vi lascio con questo breve breve tutorial vi saluto vi do appuntamento al prossimo un bacione da lucia vi invito sempre a venire a trovarmi nel mio gruppo facebook creando con luci franci un bacione grande e al prossimo tutorial ciao ciao